il bello da prezioso casa e che ti senti proprio come a casa la tua prezioso casa sempre più vicino a te pure troppo prezioso casa devo fare i complimenti a marco grande ma che ha detto buonasera a tutti ci sono io il futuro a marco critelli pensavo mi presentassi ho una sorpresa per voi un ospite di livello nazionale il numero uno degli organizzatori di eventi signore con noi ciro giustiniani ovvero il boss delle cerimonie che bello che bello che bello che bello don ciro buonasera lasciatevi rivolgere da questo mondo colorato da questo circo di risate le cirque d'uscia d'uscia io ballo un po' tutte le lingue perché sono un po' mignota è ufficiale sono il nuovo capitano del napoli papà ma che dici la cameretta ufficiale del napoli c'è la solo prezioso casa da prezioso casa è arrivata la nuova cameretta ufficiale del calcio napoli e togli di sta parrucca prezioso casa anche lui è di qui grazie massimo ancora peggio di così è impossibile una luce siamo vicino al quadro della 380 che si allunghiamo una mano ma è proprio il quadro della disperazione no ma che cosa dice mia moglie sul suo blog ha scritto un post se non mi tengo il macellaio ci mangiamo sulle tos no no i soldi se non li risparmio quest'anno faccio le vacanze fuori al balcone vorrei ma non posso ciao eh vai 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 vi vogliamo così vi vogliamo così con la vera che ci Marco Critelli eccoci qua Fatima ecco lo ecco guarda che inquadratore con il suo cellulare che primi piani gladiatore in tre minuti proviamoci nei primi cinque secondi c'è Russell con il gladiatore che non vuole più combattere ha cambiato vita e ha aperto un ristorante a Mergellina è il gladiatore a mare ma dove sta sto ristorante oh questa è finita la guarda voi no no ma sì vabbè allora la butto che butti ma sei pazzo c'è il riciclato dell'aluminio ma che ci fai con la lattina qualsiasi cosa tipo facciano dire eh riciclata ma questa è la lattina ci ha dato pure questo con questi occhiali si vede nel futuro no non ci credo ragazzi io sono spregata a stare qui voglio fare film voglio fare voglio fare un sacco di cose cosa vedi vedo una cosa meravigliosa cosa vedo setta la mia altezza setta la tua altezza e saranno i sette nani Fatima usa fatima se tu sei un labio nel 2016 devi andare a rubare ma ando male casa della gente soldi ce ne stanno sono rimasto vedo un barone quanto sei buono quanto sei bello scusa Alessandro ma l'ingrediente segreto è il sale ma no Fatima l'ingrediente segreto è lei vai a ballare con Elisabetta ma chi te guarda ma no ma no qui è come se fosse un'università noi prepariamo questi ragazzi per la sfida ferma 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 non ti muovere non ti muovere stop upload ho appena caricato il tuo video provino sul web sei perfetta per fare la partecipante al mio nuovo web reality è bellissimo noi prendiamo 5 suocere 5 nuore che si odiano a morte le chiudiamo dentro una casa per 3 mesi come il grande fratello ah e quindi finisce a televoto no finisce ammazzate secondo me giustamente ma è un rischio da correre sono da correre quanto abbiamo raccolto ancora non lo sappiamo perché li abbiamo proprio raccolto nei salvadanai quelli proprio classici di Latta quindi non li abbiamo aperti che noi li volevamo aprire insieme al negoziante un attimo che le devo finire tutte ce l'ho più thank you questi qua non sono miei mettiamo in dubbio la macchina facciamo una prova Galluccio prendi una caramella aspetta ce l'ho io e vai là è direttamente la quarta posizione ma tu ti sei mai allenato le piace qui dove si vuole si si è molto bello non c'è lo stress della città dove stava prima era stressante stava a Bologna no non ci credo e noi abbiamo fatto il seminario arcivescovile proprio a Bologna pure lei no fare una trota come si deve bisogna buttare la pasta ma che c'entra la pasta la pasta niente buttate la pasta ma no la pasta non si vuole e mettetevi a preparare la polenta ciao 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 bentornati in cuscina con Ale ci faremo una bella spiluccatina e mi imparcai su un cargo battente bandiera liberiana la prima volta che ho visto un film di Verdun ero su un cargo battente bandiera liberiana quindi comunque rimasti colpito quando migliore ma sono scelta dei tre da tempo senza te eppure provo qualche cosa che mi fa pensare bene che mi fa stare in sintonia stop 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 oh stop cosa sto prendendo casa qua dietro volete venire sti cazzi mi stiamo avendo chi se ne frega allora io do questa corda a te spero non sia grave darti corda perché sono un simpatico attenzione a lui complimenti grazie bravo bravo veramente grazie con Marco Critelli detto Mago Mark buongiorno buongiorno lancia il nero di fazzoletto vado? si 3, 2, 1 vai sparisce no attenzione no è colpa mia mi dispiace per Daniel c'è qualcosa che ci stupirà no apro molto piano si attenti non l'ho guardato dentro lo faccio piano fallo piano pazzesco 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 bravo questo Marco bravo Marco Mar